Questa mostra apre ma è stanziale a Vicenza per i prossimi giorni e racconta una storia che è indivenire, racconta una storia che ogni giorno si ripete ed è una delle più belle storie che viene raccontata quotidianamente dall'imprenditoria sana, tenace di questo paese che merita di essere celebrato come un'eccellenza qual è del settore produttivo manufatturiero dell'Italia che la fa essere eccellenza nel mondo per la caratteristica che ha unica nella lavorazione della pelle. Perché è importante questa mostra e perché è importante che se ne parli all'esterno? Perché traduce con oggetti e con modelli questa eccellenza della conceria italiana e in particolare della conceria gianese. oggi in Italia la conceria dell'identità rappresenta il 50%. Credo che la conceria, io devo parlare della conceria italiana, sia veramente un'eccezione. credo che Arginiano e Vicenza abbiano preso la strada più corretta, più giusta per il futuro della conceria gianese, è un futuro molto importante.